Ho costruito la prima azienda quando avevo 23 anni di vestiti, camice, per esclusione, perché avevo ricevuto dei no e perché pensavo che il valore dell'esperienza, dell'autonomia economica sarebbe stato il valore più grande. Erano anni più facili di oggi, certamente negli anni Ottanta, quando ho cominciato io, era un gioco apparentemente molto più semplice. Il mercato non era così globalizzato e dunque se avevi una buona idea, con poco capitale, partivi. Il cammino è stato di cercare di fare bene alcune cose, nel mio caso lavoro, tanto lavoro e servizio, servizio nel senso inglese del termine, civil servant, servitore civile, insomma, che fossero le associazioni benefiche o che fosse la politica. Argomento su cui ho preso una quantità di botte sui denti che è proprio, ecco, duretta, non ci rimetto il naso. Però è stato tutto un ricominciare a fare, a intraprendere. E la vita è andata avanti così. Nel frattempo sono arrivati figli, oltre ai quattro figli biologici nati dalla mia pancia, ho avuto due affidi di due ragazzi incontrati in orfanotrofio, prima una e poi l'altra. Lungo un percorso di creazione di progetti di lavoro, le cose si sviluppano, stavo per dire si srotolano, perché c'è un termine francese, dérouler, srotolarsi come il gomitolo, quando si dipana man mano. A me sul lavoro è andata straordinariamente liscia, bene, senza grandi sconfitte, per, direi, per 25 anni continuati. Ne ho 58 adesso, tanto per fare outing, quindi mi è andata molto molto liscia per tanti anni e pensavo di essere invincibile. E poi più o meno in successione ci sono state le sconfitte umane, tipo le separazioni, che mi hanno insegnato un sacco e altre sconfitte di lavoro. Le sconfitte non si chiamano hai perso soldi su quella roba lì, che se proprio ce li hai parte, non fallisci, te la cavi. Le sconfitte si chiamano perdita di autostima. E questo è il rischio peggiore. E ci passiamo tutti. A maggior ragione chi di noi ha fatto il primo o la prima della classe per troppi anni. Io credo che tutte le cose siano rimescolate. Siamo gli esseri umani che siamo, gli imprenditori, i professionisti, i manager, siamo le persone produttive che siamo. Ma siamo innanzitutto persone. E dunque come stiamo noi si rifletterà su tutto ciò che faremo.